Si è scagliata contro l'amministrazione Brucchi e anche l'associazione Cechi di Polvedenti la quale in una nota ha sottolineato che nei lavori pubblici effettuati e nel comune di Teramo è stata completamente violata la normativa proprio per l'eliminazione delle barriere senso percettive e questo perché ci sono stati una totale ignoranza evidentemente in materia sulla normativa ma in una nota si dice che comunque questa associazione avrebbe fornito un'assistenza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori totalmente gratuito, quindi di questo il comune non si è assolutamente fornito non si è assolutamente servito di questa assistenza e quindi questi sono i risultati cioè noi abbiamo una città completamente preclusa a queste persone, ricordiamo che questi sono cittadini come tutti gli altri, pagano le tasse e quindi hanno diritto agli stessi servizi e alla stessa attenzione alla normativa rispetto ai normali cittadini quindi assolutamente un'ignoranza totale da parte di questa amministrazione Ecco, ora il Movimento 5 Stelle si fa portavoce di questa associazione chiedendo cosa? Beh, come è il nostro costume, noi siamo dei portavoce dei cittadini e nel prossimo Consiglio Comunale presenteremo appunto una mozione per chiedere il monitoraggio quindi istituire un gruppo di lavoro per monitorare i futuri lavori pubblici e di avvalerci della consulenza nella progettazione di questa associazione ciechi di povedenti questo è quello che vogliamo fare e che porteremo nel prossimo Consiglio Comunale Grazie